Buongiorno, per capire cosa significò la segreteria Longo e la trasformazione del PCI negli anni 60 e poi i sviluppi degli anni 70, è necessario spiegare cosa fu il dibattito a Mendola-Ingrao. I due rappresentanti delle ali opposte del partito nel quadro della dialettica consentita. Per la verità molto è leggenda in questo, però sicuramente i due resteranno le due grandi teste del partito che continueranno ad avere un'influenza anche negli anni successivi sia con la segreteria Longo che con la segreteria Berlinguer. A Mendola morirà nel 1980. Ingrao, molto più anziano, è morto recentemente qualche anno fa, ormai centenario. Ingrao scompare politicamente con il PCI. A Mendola muore prima. Veniamo anzitutto a illustrare i due personaggi. Giorgio a Mendola era il figlio di Giovanni a Mendola, quindi in qualche modo era una preda privilegiata per Togliatti. L'uomo che assicurava rapporti con ambienti altolocati e al quale tutto era concesso. Lui era a Parigi dove gli era riservato un villino. Egli si consentivano lussi per lo più a spese del partito. Riceveva amici con lussuose vestaglie di seta, il che provocava delle critiche da parte dei compagni. Insomma, per il PCI operaista di quegli anni non era proprio esattamente un modello da seguire. Però Togliatti rispondeva, vabbè ma sapete, lui è abituato alla famiglia e quindi in qualche modo glielo dobbiamo concedere. Io ricordo di aver trovato una nota dell'ovra, non molto elogiativa nei confronti di Mendola. Diceva, vabbè, i senatori frassati Albertini hanno speso male i loro soldi per fare laureare questo personaggio inconsistente. Se dovesse prendere lui la guida dell'organizzazione del Partito Comunista, per noi sarebbe una fortuna. La nota si concludeva con una frase, da non arrestare. Io non so se Mendola ha mai avuto modo di vedere quella nota. Non credo che sia arrivata nell'archivio di Stato. Io lo trovai in un fondo dell'ovra custodio al Ministero degli Interni che non era andata all'archivio di Stato. Può darsi che qualche coppia sia andata, però non credo. Allora, chi era Mendola? Mendola era sicuramente figlio di papà ed era un personaggio dotato. Tra l'altro, in gioventù, era stato il fidanzato di Edda Mussolini, futura Edda Ciano. Uno che ha il padre ammazzato dei fascisti e il suocero che Mussolini, insomma, non è una cosa del tutto normale. Comunque, ben presto si allontanò. O la sua militanza comunista era anche cosa abbastanza nota. Lo stesso Mendola ricorda una volta di aver incontrato per strada Amadeo Bordiga con la moglie Hortensia che gli fece un pistolotto ad alta voce, diceva ma che cosa vai facendo, queste fesserie, il partito, vedi che finisci in galera. Il tutto per strada e naturalmente Mendola sudava freddo. Ma evidentemente nessuno l'ha arrestato. Forse quella nota aveva le sue ragioni. Bordiga probabilmente non ha neanche pensato alle possibili conseguenze di quella sparata. Dopodiché si rifugia a Parigi dove fa vita fuoriuscito, torna in Italia con la caduta del fascismo, a Roma, dove smista i rapporti con il nord. E già emergono alcune caratteristiche dell'uomo. Sicuramente la cultura risorgimentale, il fatto che noi partigiani siamo i protagonisti del nuovo risorgimento. Quindi l'insistenza su questo tema anche per poter incontrare le altre forze politiche, oltre che i socialisti, i liberali, i repubblicani. Con i cattolici a Mendola non ha mai avuto un grande trasporto. Anche se certamente teniva presente l'importanza del tema, ma probabilmente l'influenza dell'ambiente massonico familiare qualche conseguenza deve aver avuto. E non amava nemmeno particolarmente gli azionisti, dei quali si esprime sempre in modo abbastanza astro. A Mendola è il meno giovane della generazione successiva a quella dell'Ordine Nuovo, di Bordica, di Pietro Secchia. No, quella è la prima generazione, quella del 21. A Mendola è il primo della seconda generazione, essendo nato nei primi del Novecento. Quindi in qualche modo l'uomo più avanti negli anni rispetto a quelli che poi verranno della sua generazione. Per una decina d'anni in più di Ingrao. Ed è l'uomo che Togliatti sceglie per la segreteria organizzativa una volta silurato Pietro Secchia. Segreteria organizzativa che a Mendola condurrà con grande spregiudicatezza. Non usava le disponibilità finanziarie a sua disposizione, appunto, solo in modo ufficiale. In qualche modo manteneva anche funzionari non propriamente del partito, ma suoi fedeli. All'epoca il Partito Comunista non poteva garantire stipendi stabili, sicuri. Molti funzionari erano precari. E allora lui a molti precari che erano pagati una volta sì e tre volte no dalla federazione, se erano più vicini a lui inviava un qualche fondo integrativo. Ho trovato delle note al Ministero dell'Interno che vanno in questo senso. C'è anche il nome del funzionario pugliese che io ho conosciuto e che era sicuramente mendoliano. Quindi una certa spregiudicatezza l'uomo l'ha sempre avuta. In cosa consisteva la sua linea politica? La sua linea politica, guardate che sia Mendola che Ingrao, sono interni al paradigma togliattiano. Sia chiaro. Loro non sono una cosa diversa o un superamento di Togliatti, assolutamente no. Sono prosecutori della sua opera che però danno un'interpretazione diversa. Mendola è più legato alla tradizione risorgimentale, gli viene dalla famiglia, gli viene dai rapporti umani, dall'ambiente napoletano in cui ancora vida l'influenza di un Bertrando Spaventa, per esempio. Lui che è cresciuto insieme a un altro giovane comunista più o meno suo coetaneo, Eugenio Reale, che era della gioventù masonica, era un ulivello. Lui ha sempre pensato in questi termini. Di conseguenza lui ha sempre interpretato la rivoluzione italiana, rivoluzione molto nei limiti togliattiani, intendiamoci, non è mai stato fautore di insurrezioni dal basso. Amendola era un uomo d'ordine. Ricordandolo in occasione della morte, Rossana Rossanda disse, lui uomo d'ordine, dovette pensare che Mao fosse impazzito quando disse, grande il disordine sotto il cielo, la situazione è eccellente. Il disordine è fine della forma, è morte. Questo era il suo pensiero. E in effetti credo che la battuta della Rossanda colga molto nel segno. L'uomo ha sempre pensato alla rivoluzione italiana come a un prosieguo del moto risorgimentale. Lo slogan della resistenza come secondo risorgimento per lui non era uno slogan, ci credeva veramente. Per lui uomo di profonda cultura storicista. La storia ha una direzione di sviluppo che prosegue ordinatamente. Nel nostro caso la rinascita del nostro paese è iniziata con il risorgimento e con l'unità e proseguita poi con la guerra antifascista e la resistenza sullo stesso solco. Peraltro la Napoli dei suoi anni era una Napoli profondamente influenzata ancora da un lato da croce, dall'altro dalla filosofia marxista di Labriola che è un marxismo molto suo, devo dire. Quindi questo era il suo ambiente culturale. In questo clima è cresciuto ed è maturato. Ecco, una caratteristica di Amendola è stata una visione sostanzialmente retro del paese. Lo scontro che avverrà con Ingrao sulla questione del neocapitalismo, nasce da questo. Ha una lettura, se vogliamo, per certi versi letterale di alcuni testi di Gramsci. Peraltro ne sceglie alcuni piuttosto che altri. Gramsci dei consigli non deve essergli piaciuto molto. Viceversa il Gramsci che scrive sul Risorgimento che dice del fallimento delle riforme sociali perché non c'è stata riforma agraria, la necessità di riunificare il paese nord e sud recuperando i contadini nell'alleanza con gli operai, eccetera, eccetera. E quello era proprio l'idea che lui aveva dell'Italia e dei suoi destini, della storia che avrebbe dovuto avere il nostro paese. Continua a pensare tendenzialmente nei termini della dialettica progresso-arretratezza. La questione meridionale è una questione di arretratezza. E bisogna risolvere. Perché è arretrata? Perché nel sud prevale la rendita. Quindi, conseguenza logica, bisogna allearsi all'industria, al capitale industriale, per battere la rendita. E questo modernizzare il paese. Per certi versi, guardate, ci sono delle analogie fortissime con il pensiero, per esempio, dei mescevichi russi, di Pleikanov, per esempio. L'idea che per Radia adesso dobbiamo modernizzare il paese, quindi battere la rendita, eccetera, eccetera. Da questo nasce la sua idea, che punta a che cosa? Punta ad un'alleanza stabile, non solo con i socialisti, che occorre in tutti i modi non perdere. Bisogna continuare ad averli come alleati anche negli anni del centro-sinistra, quando hanno una collocazione diversa, i due partiti, uno al governo e l'altro all'opposizione. Però noi, coi socialisti, dobbiamo continuare a discutere. Dobbiamo continuare a collaborare. Dobbiamo usarli anche come ponte che vada più a destra. Quando nel 65, dopo l'elezione di Saragat, per la verità avvenuta nel dicembre del 64, lui la proposta la fa qualche settimana dopo, lui avanza la proposta di un partito unico della classe per aria italiana che metta insieme socialisti, socialdemocratici, comunisti e psiuppini nel partito del lavoro, quello che provocherà reazioni violentissime del psiupp, dello stesso PC e non solo degli ingraviani, del PSD d'altra parte, un po' più possibilisti furono i socialisti che hanno sempre strizzato un po' l'occhio da mendola. Quella proposta non fu una mattana improvvisa che gli era venuta da nulla, no, quella proposta era il logico corollario della sua linea politica, l'alleanza di tutto il fronte socialista e dei laici, importantissimo il rapporto con i repubblicani oltre che con i socialisti, a mendola ebbe rapporti molto stabili con i repubblicani, con la malfa, che era un azionista buono, ragionevole perché stava in banca, gli azionisti cattivi erano gli altri, quelli che, Lussu per esempio, ma per carità. Ecco, la sua idea era questa, un blocco socialista laico riformatore anti-rendita che modernizza il paese. In questo senso lui cerca di spingere il partito. Dove nascono i primi problemi e dove nasce lo scontro con Ingrao? Su Ingrao, poi, bisogna chiarire subito una cosa, che ci sono molte leggende. Si parla di un Ingrao da sempre antistalinista, non è vero. Di un Ingrao sempre critico verso la Russia, non è vero. Come direttore dell'Unità scrisse cose atroci sull'invasione dell'Ungheria? Si parla di un Ingrao addirittura filo cinese. Ingrao è un personaggio che va ripensato. Una biografia seria di Ingrao non è stata ancora scritta. Ingrao, figlio del ceto medio della provincia laziale, poi è arrivato a Roma, ma fa una carriera anche abbastanza veloce nelle organizzazioni fasciste. I fascisti avevano questa cosa dei littoriali della cultura e lui per ben due volte sicuramente arriva secondo, eterno secondo. Infatti verrà sfottuto per questo che era l'eterno secondo. Arriva secondo ai littoriali della cultura. Non deve scandalizzare la sua idea del fascismo. Va riportata al clima del tempo. Come dice giustamente Lizzani rispondendo al libro di Mirella Serri sui redenti, quelli che siccome avevano scelto il PC gli era stato perdonato il passato fascista. E gli dice Cara amica, non hai capito molto. Noi come generazione di giovani, cioè di ventenni, di 15, ventenni, 25 anni negli anni 30, per noi il fascismo era la modernità, il fascismo era il cinema, il fascismo era la traduzione delle opere inglesi e americane. Guardate che il fascismo ebbe una chiusura culturale verso il 36, ma per esempio se vedete il catalogo della Mondadori vedrete un sacco di opere inglesi e americane tradotte con grande liberalità. Lizzani ricorda che per noi il fascismo era quello, era la modernità, l'apertura culturale. Certo, voglio spiegare a un giovane di vent'anni, negli anni 30, che il fascismo era dittatura, era filtro, era censura, eccetera, eccetera. Per loro era questo e giustamente Lizzani lo ricorda. Per Ingrao il fascismo era quello, anche perché lui ha come interlocutore l'ambiente vicino a Bottai, che è il gerarca più moderno, più aperto, starei quasi per dire più democratico. Bottai aveva creato un gruppo di giovani sul quale Mussolini disse ah vabbè stiamo a vedere come viene su questa cucciolata di Bottai. Ma insomma, buona parte degli intellettuali antifascisti che verranno dopo, vengono le riviste di Giuseppe Bottai, prima critica fascista, poi primato. quindi non deve stupire questo. C'erano delle aperture culturali interessanti e Ingrao era affascinato dato questo, era affascinato anche dalla figura personale di Bottai, nonché dall'avventura del cinema. Lui stesso dirà in una trasmissione televisiva chiave autobiografica e sì, ho fornicato col cinema. Avrebbe potuto probabilmente essere un buon regista forse un buon letterato. Purtroppo è stato un mediocre politico. Ma in termini culturali il personaggio aveva notevoli sensibilità. Ecco, questa ascendenza dal gruppo Bottagliano è una cosa che ha la sua importanza e che lo marcherà sia nel senso della sensibilità rispetto agli intellettuali e infatti di Gramsci le pagine che lui privilegia sono quelle sugli intellettuali, il ruolo degli intellettuali, eccetera. Per lui assolutamente necessari per la conquista dell'egemonia culturale e che occorreva lasciare abbastanza liberi. Questo però lo dirà da una certa epoca in poi, ecco non proprio subito quando era piuttosto favorevole ai carri armati. Da un lato Bottagliano affascina per questo discorso sugli intellettuali, dall'altro gli trasmette la sua irresolutezza politica. Bottagliano Bottagliano è un personaggio non trascurabile dal punto di vista storico, gli dedicheremo qualche attenzione. Era uomo, sì, culturalmente aperto, frondista nei confronti del duce, però poi ogni qualvolta si arrivava al dunque si piegava. Anzi, ebbe un momento nella sua vita di ribellione ribellione e fu il 25 aprile del 43. Ma in tutto il ventennio fascista, lui che peraltro era stato futurista in gioventù a Roma, non è mai stato un ribelle, è stato un frondista ma non si è mai ribellato. È un modello perché comunque c'era la fedeltà al partito, c'era la fedeltà al duce, c'era la fedeltà al fascismo. Lui pur sempre aveva una sua idea di fascismo però era un fascista e anche dopo beh insomma certo i fascisti erano condannati a morte in contumacia però nel complesso non ha mai fatto il passo nel campo dell'antifascismo. Ha fatto una rivista critica che si chiamava BC, ha scritto cose molto intelligenti fino a quando era morto nel 59 Terrell è sempre stato un uomo di destra e per esempio una volta andò in graduno del movimento sociale venne cacciato e schiaffeggiato dai fascisti che lo ritenevano traditore. Ecco, lui non ha mai rotto veramente con quell'ambiente. Ingrao è in qualche modo un prosecutore anche dello stile personale. Ingrao non avrà neanche un 25 luglio del 43 ogni volta al momento della battaglia si darà indietro. Non avrà mai un grande carattere politico. Ingrao inizia a divergere nei primi anni sessanta quando ancora non è molto chiara la differenza fra lui e Amendola ma comincia a manifestarsi quando lui svolge una riflessione sul neocapitalismo dice e in questo devo dire la ragione lui è Amendola sbaglia qui non abbiamo a che fare col capitalismo tradizionale abbiamo a che fare con un capitalismo di tipo nuovo che concilia elementi di innovazione di modernità con l'assorbimento della rendita non c'è incompatibilità fra capitalismo industriale e rendita no la rendita viene assimilata come pompa di quattrini con cui l'industria vara il suo rinnovamento in qualche modo la sua analisi del neocapitalismo legge in chiave completamente diversa la questione meridionale dice attenzione guardate che il centro-sinistra esprime il programma del neocapitalismo non possiamo leggere quello che fa l'Iri o l'Eni o l'Efim con gli occhiali con cui guardavamo a l'Iri fascista o anche prima al tradizionale capitalismo arretrato italiano non è più una questione da interpretare in termini di progresso arretratezza questo neocapitalismo mantiene aree funzionali di arretratezza ed è antipopolare anti operaio anticomunista esattamente come quello di prima pensare di allearsi con questi è sbagliato Amendola poi lo criticherà spramente ci sarà un appicco anche dal punto di vista sindacale perché per esempio Ingrao guarderà con più interesse a tematiche come la salute sul posto di lavoro l'organizzazione del lavoro eccetera e invece nella conferenza operaria del 62 Amendola dirà esplicemente parliamoci chiaro qui è un problema di salario voglio vedere in termini di soldoni cosa portiamo a casa altra differenza importante fra i due per Ingrao la sensibilità l'autonomia dei movimenti della società è un fatto positivo e progressivo col quale il partito deve mettersi in sintonia attenzione non è che Ingrao voglia abbandonare del tutto il discorso del ruolo del partito anche in termini togliattiani il partito deve continuare ad avere la direzione ma in termini più elastici rispettando i percettivi di autonomia che a volte anticipa il partito per esempio nel 68 Amendola non mostrerà mai alcuna simpatia per il movimento studentesco il 68 che riteneva fatto di primitivismo politico assolutamente indegno di essere considerato Ingrao invece no e i suoi poi parleremo del manifesto invece guardano al movimento studentesco come un possibile alleato come un interessante sviluppo allo stesso modo Amendola e lo dirà ancora nel suo ultimo articolo su rinascita poco prima di morire quando criticherà i sindacati in particolare per la battaglia alla Fiat contro la marcia di 40.000 eccetera eccetera quando dirà eh vabbè questo è il fatto che abbiamo dato spazio agli spantareisti mentre invece i comunisti dovevano dirigere tutto il movimento sindacale e indirizzarlo noi siamo venuti meno al nostro dovere di direzione del movimento al contrario invece Ingrao guarderà con più interesse al movimento dei consigli di fabbrica ehm guarderà con rispetto all'autonomia eh del sindacato esprimerà anche una certa simpatia e interesse per la Fim CISL ecco tutte cose che non fanno di Ingrao un lussemburghiano uno spuntaneista un uomo di lotta continua nel PC sciocchezze queste sono state dette queste sciocchezze ma non sono vere però sicuramente una dimensione più aperta più moderna di Amendola e allora perché Ingrao è stato sconfitto Ingrao è stato sconfitto sostanzialmente per la sua inconsistenza politica le sue analisi erano spesso molto azzeccate qualche volta no ma insomma spesso erano azzeccate comunque preferibili diciamo a una certa rozzezza teorica di Amendola però tutto questo non portava mai a uno sbocco politico concreto tutto era in termini di forze sociali e va benissimo questo però in termini di alleanze politiche Ingrao non era assolutamente convincente non diceva nulla che poteva essere praticato Amendola per la verità esagerando nell'autopromozione si presentava come l'uomo del realismo politico e come tale piaceva a quelle ali del partito le cooperative gli amministratori locali i settori che avevano più rapporti con il mondo capitalistico eccetera aveva simpatie di questi perché si presentava come l'uomo del realismo politico come quello che faceva proposte sulla base della situazione esistente e indubbiamente non c'è dubbio che per quanto le sue idee fossero abbastanza retrate però la sua linea aveva un elemento di concretezza che mancava totalmente a Ingrao Ingrao spesso non era affatto chiaro era piuttosto fumoso ad esempio Ingrao non è mai stato filo cinese come lo dipincevano a certa stampa e come credevano i giovanotti della FIGC che stava dietro a Ingrao la FIGC era ingraiana pensate l'allievo Ingrao proprio la pupilla era Achille Occhetto pensate voi che scuola è stata quella di Ingrao ecco Ingrao maoista non è stato mai e non è mai stato contro la coesistenza pacifica ne aveva un giudizio critico in alcuni tratti diceva che bisognava essere un pochino più anti americani ma non poi di tanto però non ha mai chiarito la sua posizione del tutto nel conflitto Cina-Urs il suo giudizio sull'Urs è sempre rimasto piuttosto fumoso e incomprensibile anche dopo la fine dell'Urs un uomo della sua corrente della sua componente Luciano Barca che era un economista dal punto di vista dell'analisi sociale del neocapitalismo eccetera e il caiano però poi diceva no ma io sulla coesistenza pacifica non seguo Ingrao io sono per la coesistenza pacifica ora non è che Ingrao fosse contrario alla coesistenza pacifica semplicemente non si capiva niente di quello che voleva viceversa un personaggio come Valentino Parlato che pur era molto sensibile alle analisi sul neocapitalismo eccetera tant'è vero che alla fine finirà con il manifesto e si definiva un amendoliano di sinistra proprio perché non convinto delle posizioni di Ingrao troppo fumose e poco chiare ecco Ingrao ha questi due grandi punti di debolezza certo una grande capacità analitica ma purtroppo una assenza di concretezza politica una assenza di coraggio nei momenti di grande conflitto non è un caso che Ingrao mancherà tutti gli appuntamenti nell'undicesimo congresso quando lui aveva dietro un percentuale non proprio piccola di delegati al congresso probabilmente un 12-13% disposti a seguirlo fino in fondo lui però non avrà il coraggio di votare contro il documento politico o proporre un documento politico alternativo quello che avrebbe sancito un po' la fine del nefasto centralismo democratico all'ultimo momento si darà indietro e rientrerà quello che comunque non salverà gli ingraiani dalla falcidia che ci sarà Pintor finirà dalla direzione dell'unità in Sardegna a dirigere il partito la nieta Zande Giacomi verrà silurata dal sindacato la Rossanda perderà la Casa della Cultura e la Commissione Cultura a livello nazionale altri ci rimetteranno il posto di capogruppo simili lui stesso finirà emarginato per un lungo periodo lui che era uno dei leader del partito verrà destinato a una commissione secondaria come la commissione antilocali poi alla fine verrà eletto presidente della Camera nel 76 che comunque era un modo per togliere solo dai piedi quindi già in occasione di quel congresso al momento della conta Ingrao si verrà indietro e vincerà l'asse lungo a Mendola vincerà senza combattere peraltro in secondo luogo quando ci sarà l'espulsione di quelli del manifesto Ingrao non avrà il coraggio di venderli anzi voterà a favore anche lui qualche Ingraiano come Lucio Lombardo Radice voterà contro qualche altro come Bruno Trentin si asterrà ma il capo voterà per l'espulsione contro quelli che avevano rotto la disciplina di partito ancora quando ci fu la reprimenda nel 73 contro gli esponenti comunisti che avevano firmato la solidarietà per la liberazione di Rostagna dirigente in lotta continua arrestato con motivi abbastanza futili e non solo lui non firmò ma non proferì verbo per difendere quelli che erano stati in qualche modo bistrattati e fra gli altri c'era un nome come quello di Umberto Terracini quando poi ci fu il dibattito sul compromesso storico che era chiaro appuntava a un'intesa moderata con l'ADC Ingrao non proferirà verbo non dirà nulla e lo stesso quando si farà il governo di unità nazionale Ingrao non dirà assolutamente niente peraltro protetto dalla sua posizione arbitrale di presidente della Camera ne dirà nulla nei giorni del caso Moro dopo quando morto a Mendola il PC di Berlinguer va alla svolta perché è fallito il compromesso storico e l'unità nazionale Berlinguer lo riprende per sostituire l'alleanza con la destra mendoliana lui lo affianca ma senza avere alcun effetto politico concreto ma addirittura quando il suo ex allievo Occhetto liquiderà il partito comunista per formare il PDS Ingrao che pure farà parte della minoranza che si batterà contro il passaggio al PDS però poi sarà fermo e non aderirà a rifondazione comunista resterà nel partito comunista o meglio nel PDS in posizione assolutamente irrilevante ne uscirà qualche anno dopo in lacrime ma non ha mai avuto il coraggio di una battaglia politica fatta fin allora mancanza di coraggio e astrattezza hanno condannato un personaggio che avrebbe potuto avere altro ruolo ripeto le analisi non erano sbagliate ed erano interessanti un po' più discutibile la sua posizione più favorevole all'incontro con i cattolici che però non erano la dc insomma erano i cattolici sì c'erano i cristiani per socialismo c'erano i cattolici che facevano riferimento alla sinistra di dipendente quello che mi pare ma erano tre gatti e mezzo rispetto ai cattolici e quindi anche lì non è che ha mai avuto una posizione chiara Amendola al contrario è stato uomo di idee arretrate ma chiare si capiva cosa voleva e sarà certamente l'uomo in qualche modo complementare al centro nel momento in cui il PC iniziava la manovra di convergenza verso il centro Amendola resterà sempre filosovietico non gioirà della condanna all'invasione cecoslovacca storcerà il naso quando ci sarà il centenario di Lenin con il documento che sancirà il massimo di prese di istanza dai russi non prenderà mai posizione sulla questione del dissenso dei paesi dell'est e tendenzialmente fino all'ultimo continuerà a stare dalla parte dell'URSS perché nella sua visione quello era un modo di opporsi alla guerra ora va bene opporsi alla guerra ma insomma non era poi necessario e forse meno utile farlo scegliendosi certi interlocutori comunque questi due sono stati i poli che hanno animato la cultura comunista negli anni sessanta portandola agli sviluppi che troveranno un punto di sutura in Berlinguer ma questo lo vedremo dopo l'unica 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 Grazie a tutti